ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina si sta morendo di caldo qui in sicilia proprio non si respira ho bisogno di qualcosa di fresco quindi ho deciso di prepararmi un aperitivo analcolico buonissimo e voglio mostrarvi come lo preparo io ci servirà un bicchiere con del ghiaccio poi un bitter potete scegliere rosso bianco io sto scegliendo quello rosso e poi ci servirà un ingrediente segreto che lo prenderemo dopo come prima cosa dobbiamo andare a raffreddare il bicchiere quindi con un cucchiaino andiamo a mescolare fino a farlo raffreddare adesso andiamo a togliere l'acquetta che si sarà formato del ghiaccio dopo aver tolto l'acqua andiamo ad aprire il bitter lo inseriamo all'interno e adesso vado a prendere l'ingrediente segreto a granita questa è la granita che faccio io era vita al limone guardate è morbidissimo andiamo a trovare un bel po di granita così e la inseriamo all'interno sotto nell'info box e vi mette il link della ricerca della granita siciliana al limone questa fa è spettacolare do una mescolatina il mio aperitivo analcolico con granita siciliana è pronta per rimbrestarmi ovviamente adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate c'è voluto se no un minuto per prepararlo e adesso provo assaggio buono e soprattutto che fresco si può stare troppo valdo fa troppo valdo grazie a tutti